Mio zio faceva parte di una caserma del 7 reggimento Bersaglieri in Veneto e fu deportato con tutta la caserma per essere rifiutato di aderire all'area RSI e combattere insieme ai deteschi. Fu deportato in un campo di concentramento di Kerk & Kishen e lì è stato quasi un anno. Una notte arrivarono sul campo di concentramento dei bombardamenti alleati e è normale che i deteschi scapparono tutti e scapparono pure i prigionieri. Mio zio si nascose insieme ad altri in nascondilli purtroppo non conoscendo il territorio si cercavano di nascondere il meglio possibile. Fatalità, aveva avuto la fortuna prima di uscirne fuori dal campo di concentramento e purtroppo non riuscìva a scampare con la bomba che cadde proprio sul rifugio che loro stavano. E quindi li seppellirono in fosse comuni però dopo qualche anno poi li tirarono fuori quelli che sono stati riconosciuti e li hanno seppelliti in vari cimiteri italiani d'onore che sono distribuiti fra la Germania, la Polonia e l'Austria. E quindi mio zio per 68-67 anni è stato seppellito in un cimitero bellissimo perché io ho le foto e nemmeno questi non c'entrano niente e nessuno o meglio il ministero sa tutto perché hanno nome e cognomi e li hanno tenuti nascosti finché Roberto Zamboni con la sua caparbietà è riuscito a scoprire tutto. E quindi siamo qua. Mio zio grazie a Roberto Zamboni siamo riusciti a portarlo a casa finalmente insieme ai suoi familiari.